Antonio Carnemolla, artista di strada, torna a Padova lo street show, un appuntamento dal 9 giugno. Esatto, dal 9 al 12 giugno, finalmente rieccoci qua come l'anno scorso, le piazze di Padova di sera saranno animate da artisti provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo. Invito tutte le famiglie a venire a questo evento unico di sera sotto un tendone a cielo aperto, sperando appunto che il tempo sia a nostro favore, ma anche se il tempo non è a nostro favore, signori, vi invito comunque a venire perché sarà magico guardare gli spettacoli sotto la pioggia. Devo necessariamente dirvi questo messaggio. Poi, insomma, l'anno scorso è andata benissimo, possono vedere dalle foto, dalle immagini, dai video che il Palazzo Moroni era colma di gente. Ringrazio il Comune, ringrazio il nostro sponsor Birrantoniana per realizzare questo evento e questo festival. Vi aspetto a tutti, il programma è incredibile, compagnie da ogni parte d'Italia ed Europa. Nello specifico, in quali posti di Padova? Allora, saranno quest'anno tre le location, Piazza Cavour, Palazzo Moroni e Piazza delle Erbe. Ecco, artisti di strada che giocano col fuoco, che divertono col fuoco, che divertono con attrezzi di cucina, un po' di tutto. Eh, c'è, allora sì, allora c'è di tutto, non solo il fuoco, ma anche cabaret, clownerie, la semplicità, la poesia che arriva nei cuori di tutti noi.